27 Settembre 2022, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, Io sono la vostra Madre e vengo dal Cielo per portarvi al Cielo. Voi avete libertà, ma il meglio è fare la volontà di Dio. Non permettete che le cose del mondo vi allontanino da Mio Figlio Gesù. Egli vi ama e vi aspetta a braccia aperte. Camminate per un futuro sanguinoso, l'umanità berrà il calice amaro della sofferenza perché gli uomini si sono allontanati dal Creatore. Ecco il tempo opportuno per il vostro ritorno. Curate la vostra vita spirituale. Voi siete importanti per la realizzazione dei miei piani. Siate docili. Sappiate che il vostro tempo è breve. Quello che dovete fare, non lasciatelo per il domani. Io vi amo, anche quando siete lontani, ma vi chiedo di tornare a Colui che è il vostro unico e vero Salvatore. Non cercate scorciatoie. Rimanete con Gesù, perché solamente Lui è la vostra via, verità e vita. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie. 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 Grazie a tutti.